buongiorno e benvenuti nel mio canale mi è stato chiesto in un commento come si fa a misurare la distanza tra due luoghi in google maps da android innanzitutto vediamo come si fa con google maps da computer per aprire google maps si accede a google si clicca su questa icona dei nuovi punti e si va su maps dopo aver aperto maps per trovare la distanza tra due punti si clicca sul primo punto per esempio firenze vogliamo creare la distanza vogliamo calcolare la distanza che c'è con roma ci si clicca sopra con il destro del mouse e si va su misura distanza ci si sposta magari poi si fa lo zoom ci si sposta su roma si clicca su roma ed ecco calcolata la distanza 230,46 km naturalmente si tratta di una distanza lineataria se poi vogliamo magari andare a arezzo si crea un altro un altro percorso diciamo così ci si clicca sopra ed ecco la distanza è di 410 km perché a la distanza da roma a firenze è stata aggiunta la distanza da roma ad arezzo se poi si va a bologna si clicca sopra ecco adesso siamo arrivati a 535 km poi si clicca nuovamente su firenze per completare il percorso siamo arrivati a 616,17 km per eliminare tutto si può cliccare qua e si elimina tutte le distanze che abbiamo calcolato oppure si poteva anche andare sul destro del mouse e andare su elimina distanza si può anche calcolare delle distanze più brevi vediamo tra bibbiena e chiusi della verna si clicca su bibbiena con il destro del mouse si va su misura distanza quindi si clicca su chiusi ecco la distanza è 10,32 km si tratta sempre una distanza in linea d'aria chiaramente e adesso vediamo come si procede invece con google maps da android chiaramente bisogna installare l'applicazione google maps di android si va google maps dovrebbe essere già installata su tutti i dispositivi android comunque se non ci fosse eccola qua questo è google maps per android qui va tolto l'ultima parte e adesso vediamo come utilizzare google maps per android dal cellulare dallo smartphone ma anche dal tablet la stessa cosa chiaramente google maps può essere installata anche sui dispositivi ios cioè iphone e ipad per calcolare la distanza tra due punti anche su google maps per dispositivo mobile si tocca sul punto iniziale da cui prendere la misura della distanza in questo modo dopo averci cliccato sopra si va qui in basso e si scorre le indicazioni in basso come vedete c'è misura distanza ci si tocca sopra ecco si vede adesso questo circoletto in nero con il bordo nero si sposta la mappa vedete nel momento che si sposta la mappa viene creato una linea punteggiata se io adesso vado su bologna con il circoletto ecco che in basso mi si vede che sono 80 chilometri se lo sposto magari su modena ecco in basso sono 102 chilometri se vado in alto vado per esempio su milano ed ecco che sono 250 chilometri se invece vado in svizzera magari su a lugano ecco che sono 308 chilometri solamente poi posso andare bene a genova ed attenzione in via d'aria naturalmente sono 200 chilometri naturalmente io posso anche zoomare per fare i calcoli meglio per vedere tutta la situazione posso anche creare visuale la distanza di un percorso vado su aggiungi punto qui come se c'era che aggiungi punto più e quindi possono andare da genova a milano poi ancora su aggiungi punto sul più e poi andare a bologna aggiungi punto sul più poi tornare a firenze aggiungi punto sul più e come vedete in questo caso tutto il percorso di 605 chilometri per eliminare la misurazione posso andare qua direttamente su questa freccetta per tornare la situazione precedente come si sa misura distanza guarda sulla precetta e eliminò la isolazione per cancellarla poteva andare sulla crocetta e questo è come si fa a misurare la distanza linea d'aria con google maps per android naturalmente probabilmente il principio lo stesso anche per google maps su iphone e ipad alla prossima volta